the day after il giorno dopo o il giorno after o il day eccetera eccetera questa con lei no no non fare la vittima non fare la vittima che non ti crede ne crede nessuno ecco questa è quella che mi ha svegliato tipo alle 45 il mattino ma che ritorna dalla vita perché si sente in colpa assente un po anche il tono di voce perché ha sentito gli animali fuori veloce p e allora voglio andare qua voglio andare allora siamo scesi ne ho fatto due corse trovato niente e siamo tornati su o ne sono arrivati comunque in anticipo che ho quello fabio se nabiasse la spostata e si ora fabio se la spostata e fa la sociale non arrabbiarti se non l'avevo pubblicizzato sto raduno l'avevo messo solo sul gruppo facebook delle puntine o i mattutini la e però siamo ora 1 2 3 4 5 6 e una sette già di primissima mattina cioè tipo mi sono tirato su alle 8 ieri si è andati a letto tipo alle 2 qualcosa dopo lei mi sentiva rumori forse qualche c'erano non lo so e non ho dormito un caso dio caro proprio un caso stiamo no aspetta stabilizzatore venimi incontro un attimo aspetta perché è nuovo devo ancora capire fermo la allora in teoria schiaccio sto bottone due tre volte e invece non succede un caso ok e allora lo sposto qui eccolo la vedi iniziamo già essere un pochini anche va bene non è stato pubblicizzato però insomma e adesso si arriva anche a denis è chiuso qua se uno nuovo e andiamo a vedere non so se è nostro andiamo a vedere il camperosso e denis storiasse mister porca miseria ciao e ciao mi ti sei ben già visto sia non so mi ti sei che volta ti mi hai fatto anche il video eh ma quanto rincogionio sono? infatti domande che lui devo parlare di quanto rincogionio sono? eh scusa dai ciao Fufi dove volete il famoso cipicane piccane ciao che ne sai? eh cavolo signor ah di solito ci mettevamo di là stavolta abbiamo cambiato perché c'è un bel gazebo tu mettiti dove vuoi anche qua guarda qua spazio no c'è discesa qua guarda qua si qua in fianco perfetto si si dai dai si si fatta bisogna qualche rifinitura estetica esterna perché no 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 che lo pitiocciava dimmi guarda che forte eh? ma sta roba mai visto? è così infatti che figo queste robe qua che mi fanno brutte vabbè quello ti accava? però non le misure è come il tuo vecchio 540? eh si ragazzi io come vi ho ripetuto se tante volte anche se ho il 680 io comunque insisto a dire che se non hai un 540 non fai un cazzo nel senso che vai dappertutto quei camper grandi permesso però non parcheggi da nessuna parte ah che roba come hai fatto tanto bene anche il suo cioè lui ha il bagno in coda ma i mobili li ha cambiati te? no così dei suoi eh si per noi? beh è tenuto veramente bene cazzo non capisci in camera te c'è curati un attimo guarda porca miseria per noi ossia però guarda i sottotitoli che mi tocca a me tabbè ma se colpa mia sono mica e parlo guarda la cosinetta di netto spaziosissima come la sulle come un letto di casa perché le veranze è enorme si è anche più più altino del mio un pochino più alto del mio abbastanza alto qua dentro l'armadio 540 è ora? si e bagno in coda è una bella bella soluzione bella 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 armadio sotto della truma qua ti ha il gavone adesso vabbè si si guarda roba è un po' di casino si 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 riprese fatte a caso come sempre ma ormai ti sei abituati a sta roba per dirte qua sotto ah wow ah ma questo lo usi? per i bambini? si avevo quattro bozze ah buon boio la te serve si 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 dopo gli aveva messo questo il maxioblock cos'è? un tipo? un tipo il viesa però è un'altra marca però è un'altra cosa che interessa a queste qua i tu che ne domanda sempre ma te sto imparando a usare lo stabilizzatore appena preso si allora hai messo su un po' la cazzo eh perchè siete a VARNA l'hai un po' messo su la cazzo buu call no buy call quindi buy cool non c'entra col deletano è proprio una parola inglese dirna esatto evolution della dirna group air condition e beh però prova a vedere quanto ti costa questo perchè so che adesso magari che arriva l'inverno o no però molti erano stra interessati al clima ma soprattutto al viesa perchè li puoi usare senza la colonina elettrica infatti anche questo l'abbiamo provato però ho fatto un disastro perchè ancora non si sapeva come che l'andrea ha usato e questo vedete il bagnetto bello no cancalo cancaluco a doccia separata no ste robe dai ma adesso ce l'ho anch'io provo a andare dentro a vedere che bello si no ho visto ma tu sai gente che ho odiato io per la doccia esterna perfimario alla doccia cazzo che bello guarda aspetta che vedo guarda se meno un quadro sotto guarda ne ha spazietto guarda i miei piedi guarda cazzo vabbè riprese a cazzo però fai qua che storia veramente veramente bello adesso devo un po' personalizzarlo con tendine con qualcosa un po' più più nostro però cazzo vedi tu e con questo ti parcheggio e cacchio vuoi nei posti più fighi porca miseria ecco 680 ragazzo a testimonianza quella volta del viaggio in toscana non mi ricordo se l'ho detto avevamo una splendida vallata ok col culo andavamo troppo in mezzo alla strada cioè non ci passavano le macchine abbiamo dovuto dormire in mezzo a dei condomini capisci ovvio che con 680 vai dappertutto ma non parcheggi dappertutto quindi ragazzi anche te se sei in procinto di prenderti un camper ti tieni conto sempre massimo 6 metri se dopo trovi un 540 puoi andare veramente ovunque cioè parcheggi auto proprio in mezzo cos'è di bello omologato 6 posti questo porca miseria qua è un altro gravone doppio serbatoio dell'acqua però il secondo non so come funziona aspetta chi me domanda perché qua se parla sempre dell'usato nei altri praticamente allora è un bustner bustner a 535 mi sembra qualcosa del genere non è da forza che è scritto ecco che arriva la signora buongiorno signora lei su scherzi a parte si busta a 535 cosa c'è scritto lì ecco busterebbe però credo sia abbastanza raro ma strano c'è i camper più belli sono quelli più rari e ora che è una roba assurda le carino proprio carino si 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 innamorati si ma cazzo 540 avrà che bella disposizione porca miseria in più dormi in sai assurdo e allora ho dovuto registrare ah sì ma che bravo ah sì ma Grazie a tutti